buona giornata in italia in questo periodo per alcuni studenti e ci sono gli esami di riparazione quegli esami che ti consentono avendo avuto l'anno scorso nell'anno scolastico una materia o due o tre dipende un po un po traballina oppure insufficiente di rimediare parla uno che ha fatto anche molta esperienza legato a questi tipi di esame ecco vogliamo dirci coraggio vogliamo dirci grinta vogliamo dirci si può sempre ricominciare e avere una seconda possibilità non diamo tutto noi stessi anche in questi momenti anche in questi passaggi esami di riparazione possono essere anche vissuti come un qualche cosa di negativo certo e anche di fatica durante l'estate ma possono anche insegnarci che tante cose se ci svegliamo e se le adottiamo prima nel compierle sicuramente avremo una vita più semplificata il signore ti illumina e ti benedica forza buona giornata grazie a tutti grazie a tutti